Ciao a tutti e bentornati, state vedendo la scatola magica col cuore che contiene abbigliamento e accessori di bambola desi, quello che abbiamo fatto finora. Naturalmente poi il lavoro proseguirà sempre andando ad arricchire le diverse collezioni con accessori vari. Collezione prettamente natalizia con tutto il completo e la collezione invernale. In questo modo ho pensato di fare il punto della situazione, visto che molte di voi mi chiedono non avendo visto probabilmente tutti i filmati. Vi ricordo che li trovate nella playlist Amigurumi e Uncinetto e Bambola Desi, sono parecchi. Intanto vi saluto, ciao a tutti e alla prossima.